Lo scenario è quello suggestivo della Laguna di Lesina, dove il tramonto non è uguali. E qui, dalla piattaforma galleggiante del Lake Café, che è stata presentata ai Feel Food Italia, l'innovativa start-up digitale che coniuga la promozione e la valorizzazione dei prodotti locali con il turismo. Un progetto innovativo che propone degustazioni virtuali interattive con il digital testing, formula anticrisi per il mondo del food durante la pandemia e nuova tendenza che rivoluziona l'esperienza gastronomica condizionata dal distanziamento sociale. Il meccanismo è semplice, i partecipanti ricevono un kit con i prodotti e da remoto chef e sommelier digitali li guidano nei percorsi didattici e pratici. I ideatori dell'innovativo progetto sono Mario Clarendon, Ester Fracasso e Pino Postiglione, tutti con un unico grande obiettivo, portare l'eccellenza dei nostri prodotti in giro per il mondo. Allora, durante il lockdown siamo rimasti un po' soli con le nostre idee, le nostre frustrazioni, quindi è passato un amico sommelier a casa, abbiamo detto che facciamo, lui era giù alla finestra, non poteva salire. Abbiamo deciso di creare una piattaforma per aiutare la gente a condividere un po' la gioia del mangiare, del bere. Poi si è creato un team intorno a quest'idea, Pino Postiglione, Ester eccetera, e siamo andati avanti man mano ad aggiungere. Siamo su una piattaforma galleggiante, quella che abbiamo creato è una piattaforma digitale. È un marketplace ma anche un posto dove poter, tra virgolette, apprendere, a valutare un vino, a scegliere un vino e poi soprattutto anche il collegamento col territorio. Quindi se mi viene voglia di provare quel prodotto io poi lo vado a cercare nel posto di origine. Questa è un po' l'idea. Arriviamo al consumatore tramite una tecnica di marketing abbastanza diffusa che è creare engagement su di lui. Come lo creiamo? Attraverso un meccanismo, una formula già testata che è quella del digital testing da questo punto di vista. Essenzialmente non è altro che un percorso formativo dove i nostri sommelier e chef digitali descrivono quella che sarà la degustazione ed è una degustazione fatta in diretta tramite i nuovi canali online dove ahimè il consumatore è oramai già pronto per questo tipo di formula. Il nostro territorio ci stupisce sempre però devo dire che questa volta partiremo dal nostro territorio. La nostra velleità è un po' più ambiziosa. Vogliamo arrivare al territorio Italia. Quindi parte questa piattaforma facendo incontrare i produttori dell'enogastronomia di eccellenza con gli operatori turistici di eccellenza dei vari territori. Partiamo da un territorio come l'Esina perché per noi è un territorio che va valorizzato. Basta guardarsi intorno per capire quanta ricchezza c'è.